Bentornati su Talking Page e benvenuti in questo nuovo video recensione opinione personale di uno degli ultimi libri che ho letto. Il posto dell'amore di Helen Van Slyke. Allora purtroppo devo dire che questo libro non mi è piaciuto ed è stato abbastanza faticoso finirlo soprattutto perché è bello corposo e scritto in piccolo mi pareva che non finisse mai. Cosa che non va questo libro? Partiamo prima di tutto dalla trama ecco c'è questa signora benestante che all'improvviso perde il marito, il marito fa un bel infartone e la lascia abbastanza incasinata a livello economico perché di certo non era un risparmiatore o un bravo investitore insomma scialacqua va al denaro e quindi non le ha lasciato granché questa donna quindi si ritrova a dover andare a lavorare scendere un po' i gradini della sua torre d'avorio dove aveva vissuto fino a quel momento e toccare un attimo con mano quella che è la realtà di molte persone che stentano ad arrivare a fine mese. Questa donna ha anche dei figli ovviamente vive con il figlio 17enne quindi un adolescente periodo molto particolare, ha una madre con cui non ha un buonissimo rapporto, una figlia che è un po' allo sbando, un altro figlio che invece è già sposato e sembra avere la testa sulle spalle. Le difficoltà di questa donna saranno proprio quelle di prima di tutto lavorare il lutto e poi per l'appunto badare a se stessa e a suo figlio. Cosa che non va questo libro dicevo? A che i personaggi non mi hanno preso, soprattutto questa donna non è per nulla credibile nelle scelte che fa, specie a livello sentimentale perché va a impelagarsi con un uomo più giovane di lei poco pochi mesi dopo dalla morte del marito e già qui se forse la scrittrice sarebbe stata più brava, più in gamba, me l'avrebbe fatto digerire meglio questo fatto. Ma il libro è tutta una serie di scene tra i protagonisti di questo libro, soprattutto di lei che per l'appunto ingaggia questa relazione con un uomo più giovane di lei, poi la madre di lei che ovviamente comincia a giudicarla, i figli stessi. Non c'è stato un personaggio che mi abbia preso totalmente, che si è risultato bello credibile. Non dico che non siano descritti bene ma il modo in cui interagiscono. Sembra una telenovela, ecco una telenovela, sembra proprio una telenovela, quella dove ogni minima conversazione, ogni minimo accadimento viene descritto nei minimi particolari per allungare il brodo come viene fatto per l'appunto nelle puntate delle telenovela dove semplicemente per uno scambio di saluti va via la mezz'ora della puntata per dire ciao come stai, io bene grazie, cosa hai fatto di bello, ho fatto quello, così ti va via la puntata della telenovela e la tirano per 7 miliardi, 500 mila puntate per l'appunto di questa telenovela. Ecco così qui è lo stesso, ho avuto la sensazione che il brodo fosse allungato, non ci sono state grosse riflessioni, perlomeno non scritte bene come mi è capitato di leggere in altri libri di narrativa magari con tragedie all'interno ecco. posso dire che non mi è piaciuto, l'ho letto a fatica, non mi ha preso, non mi ha trasmesso nulla se non questi litigi tra queste persone, questo modo di descrivere i sentimenti in modo molto superficiale, sono pagine strapiene di azioni e povere di descrizioni della psicologia dei personaggi, ecco perché mi è risultato pesante arrivare alla fine. Se per caso vi avevo incuriosito nel video in cui ve lo presentavo, ecco vi dico di non leggerlo, ci sono un sacco di altri libri di narrativa che io ho letto ultimamente che valgono il doppio rispetto a questo, come stile di scrittura, come descrizione delle situazioni e come evisceramento della psiche dei personaggi, questo francamente è un no. Io qui ho finito, spero di avervi dato un consiglio per evitare si fatto romanzo e purtroppo non è andata, insomma può capitare di trovare un romanzo che non riusciamo a digerire, insomma non mi posso lamentare perché ultimamente ho trovato per la maggior parte 90%, 95% anche libri che mi sono piaciuti, quindi non mi sto lamentando assolutamente, fa parte del gioco, del rischio di noi lettori come dico spesso e quindi va bene così. Io vi ringrazio di aver guardato questo video e vi aspetto come sempre alla prossima, ciao bella gente! Ciao!